Carissimi amici di Dinosauromania, benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video. Dalle immagini avrete già capito di cosa stiamo parlando. Si tratta delle fantastiche bustine dei mini action dinos di Jurassic World. Ero lì in un negozietto di giocattoli e ad un certo punto mi sono accorto che sul banco c'erano queste bustine in esposizione e quindi mi son detto ma la grafica non è la stessa delle bustine che ho recensito precedentemente in un altro video. Quindi se andate sul nostro canale e scorrete i vecchi video troverete appunto un unboxing di un'altra versione di queste bustine. Ve la faccio vedere subito. Erano appunto queste bustine che contenevano una collezione di 13 mini dinosauri. Mi sono ritrovato quindi davanti agli occhi ragazzi queste fantastiche bustine con una grafica differente anche se simile e quindi mi son subito chiesto ma cosa ci sarà all'interno? E quindi tramite il nostro fantastico e super gruppo Facebook che potrete trovare appunto sul social digitando Dinosauromania ho chiesto un attimino agli utenti se avessero i codici di queste fantastiche bustine anche perché ragazzi dietro ogni bustina c'è un codice e ogni codice corrisponde ad un dinosauro. Ovviamente gli amici della nostra community sono stati velocissimi nel rispondermi mi hanno procurato tutti i codici che poi io vi inserirò nella descrizione e quindi mi sono fiondato ed ho acquistato immediatamente 10 bustine. Quindi ragazzi all'interno anche se la collezione è composta da 13 dinosauri io sono riuscito ad accaparrarmi 10 dinosauri differenti. E allora ragazzi queste sono le bustine che andremo ad aprire tra poco vi faccio rivedere la grafica si tratta dei mini action Dino di Jurassic World io li ho acquistati ad una cifra bassissima 2,50 euro al pezzo ecco perché mi ho subito acquistati 10 in blocco ed eccoli qui ragazzi questi fantastici mini action Dinos che tra poco vi farò vedere nei dettagli uno per uno. Ed eccoli qui ragazzi in tutto il loro splendore all'interno di alcune bustine troverete anche questo mini libretto guardate ragazzi bellissimo dove all'interno sono rappresentati tutti i dinosauri di questa fantastica collezione con i rispettivi nomi e dove ci dice che in questa collezione è anche presente uno speciale che adesso vi farò vedere. Scopriamo subito ogni singolo dinosauro. Iniziamo da lui ragazzi guardate il fantastico Indoraptor ogni dinosauro di questa collezione effettua almeno un movimento in questo caso nell'Indoraptor si apre e chiude la bocca ragazzi ve lo faccio vedere più o meno come avrete capito le dimensioni sono queste di questi fantastici mini action dinos questo ragazzi è il cattivissimo Indoraptor. Passiamo subito con uno dei miei dinosauri preferiti ed ecco qui ragazzi il Dilophosauro. Guardate i dettagli la camera riesce a metterli a fuoco anche in questo caso un movimento quindi in alto e in basso il collo del Dilophosauro ve lo metto a fuoco guardatelo ragazzi eccolo qui e passiamo con un altro dinosauro questo ha un nome un po' particolare mi aiuto subito dal libretto così evitiamo di sbagliare il suo nome e stiamo parlando del Sucio Mimus guardate ragazzi fantastico il Sucio Mimus ecco i dettagli anche qui un movimento che è quello della bocca apertura e chiusura della bocca perdonate se ogni tanto la camera ha difficoltà a mettere a fuoco questi fantastici dinosauri passiamo allo speciale lo speciale in questione è il Tyrannosaurus Rex che hanno deciso di farlo in questa versione metallizzata dal colore verde guardatelo ragazzi è bellissimo ed ovviamente fa gola ad averlo nella propria collezione anche qui movimento della bocca apertura e chiusura della bocca fantastico ragazzi veramente fantastico passiamo ad un altro dinosauro guardatelo ragazzi anche qui apertura e chiusura della bocca e stiamo parlando del Postosucus incredibile anche la colorazione che è stata scelta per questo mini action dino bellissimo ragazzi passiamo con l'apatosauro ecco qui ragazzi l'apatosauro in questo caso il movimento è del collo in basso ed in alto bellissimo colorazioni dettagli vediamo se la camera ci aiuta ecco qui ragazzi l'apatosauro passiamo al Baryonyx guardatelo ragazzi bellissimo in questa super colorazione verde militare sembra quasi un Baryonyx mimetico ragazzi è spettacolare anche in questo caso movimentazione della bocca mettiamolo a fuoco vediamo se ci riusciamo eccolo qui eccolo ragazzi eccolo ce l'abbiamo apertura e chiusura della bocca e poi iniziamo a passare con il primo veloci raptor non ci dice quale veloci raptor è nella descrizione del libretto parla solo di veloci raptor quindi eccolo qui in tutta la sua bellezza in questo caso il movimento è quello delle zampe ed ecco qui il veloci raptor e poi passiamo alla regina dei veloci raptor la riconoscete sicuramente stiamo parlando del veloci raptor blu in tutta quanta la sua bellezza ottimo la scelta dei colori e dei dettagli per rappresentare uno dei dinosauri più famosi della saga di Jurassic World guardate ragazzi è spettacolare anche in questo caso movimentazione delle zampe posteriori e ne approfitto per farvi vedere il loghino di Jurassic World posto sotto una delle sue zampe che appunto determina l'originalità di questi dinosauri così come la scritta Mattel che troviamo sulla parte sottostante del dinosauro e allora ragazzi dopo la fantastica blu passiamo all'ultimo dinosauro questa volta abbiamo a che fare con il bellissimo sino ceratops guardate ragazzi colorazione e dettagli incredibili di questa collezione oltre al barionix e al veloci raptor blu è uno dei miei preferiti anche in questo caso una movimentazione testa in basso ed in alto guardatelo è veramente bellissimo e allora ragazzi questa è l'intera collezione dei mini action Dino di Jurassic World se questo video vi è piaciuto mettete tanti pollici in su iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sintonizzati su tutte quante le nostre novità io vi saluto e ciao da Dinosauro Mania